Venerdì 21 ottobre, nelle antiche carceri di Palazzo Pretorio a Morvegno, è stato inaugurato il Centro Culturale intitolato a Monsignor Felice Reinoldi, illustre liturgista, musicologo e musicista, noto a livello internazionale per i suoi studi e per il contributo in campo musicale alla riforma del Concilio Vaticano II. Docente in numerosi Atenei italiani e consultore della Commissione Liturgica Nazionale della Commissione Episcopale Italiana, il sacerdote, l'8 luglio 2015, ha fatto dono all'associazione culturale Ad Fontes, di cui è stato fondatore e vicepresidente per dieci anni, tutto il suo patrimonio librario, archivistico, musicale, con l'obiettivo di renderle pubblicamente fruibili. Abbiamo condiviso con Don Felice per tre anni il progetto di un centro culturale, finalmente oggi l'abbiamo inaugurato dopo mesi e mesi di lavoro, spostando qualche quintale, tanti quintali di libri. Sono circa 8.000 libri, 6.000 numeri di riviste, circa 1.000 dischi di musica sacra in vinile, a cui si aggiungono 11 metri lineari di CD e video in musica 7 e 15 metri lineari del suo preziosissimo archivio, costituito soprattutto da partiture musicali. Al taglio del nastro è seguita la cerimonia di benedizione dei locali della biblioteca, ufficiata dall'arciprete di Morvegno, Monsignore Andrea Salandi, e da Corrado Necchi, vicario episcopale per la provincia di Sondrio, alla presenza di molti parloci della zona, intervenuti all'inaugurazione. Hanno quindi preso la parola le molte autorità civili intervenute. Il sindaco di Morvegno, dopo aver svelato la targa con il logo del Centro Culturale, disegnata dallo stesso Don Felice, ha rappresentato l'orgoglio della comunità per il privilegio di poter ospitare un patrimonio di tale elevatura e di importanza. Sulla sinergia che scaturisce dalla collaborazione pubblico-privato, ha posto l'attenzione il sottosegretario onorevole Ugo Parolo, in rappresentanza di regione Lombardia, mentre il presidente della provincia, Luca della Bitta, dopo aver ricordato alcuni aneddoti personali del suo incontro con Don Felice, ha sottolineato il valore di questa iniziativa per tutta la provincia. È una giornata davvero importante, un traguardo, ma insieme all'inizio di un nuovo percorso, il patrimonio di un uomo davvero sensibile, molto capace, che ha coltivato questa sua passione e ci lascia un'eredità importante. Infine Tiziano Maffezini, sindaco di Chiuro, paese natale di Don Felice, dove riposano le sue spoglie, ha rimarcato l'importanza dell'operare insieme, perché questo patrimonio culturale porti a pieno i suoi frutti. Infatti, come ribadito più volte durante il pomeriggio, l'inaugurazione costituisce solo l'inizio del progetto, così fortemente voluto ed impostato da Don Felice. Ora si deve completare la catalogazione dei libri, dei manoscritti, ma soprattutto deve prendere forma l'attività di ricerca, di canto, di progetti. L'eredità di Don Felice Rainoldi, prima di essere un numero considerevole di libri, è l'eredità di valori ed ideali da vivere in condivisione. Il fatto più rilevante è che tutto il materiale verrà progressivamente inserito nel catalogo unico della Biblioteca Ambrosiana di Milano. In particolare, per quel che riguarda i libri, la Biblioteca Ambrosiana è polo del sistema bibliotecario nazionale. In questo modo potrà garantire la visibilità internazionale a tutto il materiale inserito a catalogo della prestigiosa Biblioteca milanese. Si è istituito un rapporto stabile tra la Biblioteca del carcere e la nostra Biblioteca Ambrosiana di Milano. Attraverso il servizio bibliotecario mondiale porteremo a conoscenza il patrimonio di Don Felice Rainoldi. Verrà quindi garantita la friuzione del materiale e delle iniziative del Centro Culturale intitolato Don Rainoldi, facendolo conoscere in tutto il mondo come riferimento per gli studi di liturgia e musicologia. La soddisfazione per il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo è stato espresso congiuntamente dal presidente di Ad Fontes, Ugo Zecca, e dal prefetto dell'Ambrosiana, Monsignor Franco Buzzi, che oltre ad evidenziare il valore della collaborazione fra la Biblioteca milanese e il Centro Culturale Felice Rainoldi, ha voluto sottolineare lo spessore umano e pastorale di Monsignor Rainoldi. Il professor Daniele Sabaino, docente di storia della musica di eriti cristani presso un'Università degli Studi di Favia, sezione di Cremona, ha invece rimarcato il valore scientifico della produzione del Rainoldi. Sabaino ha ricordato che Monsignor Rainoldi si poneva sempre in dialogo franco con interlocutori diversi, sempre con coerenza e profondità di studio, come la vastità della sua biblioteca e la ricchezza del suo archivio documentato oggi, ponendosi al servizio della comunità valteninese e non solo. È importante vedere riuniti in un solo luogo tutto il patrimonio librario e musicale che Don Felice Rainoldi ha raccolto nella sua vita, in modo che questo non diventi soltanto un luogo di testimonianza della cultura e della memoria di Don Felice, ma sia anche un luogo dal quale le discipline che lui ha studiato e coltivato possano essere ancora studiate e coltivate per il progresso della cultura, della scienza liturgica e della scienza musicologica.